bene ragazzi siamo in una nuova area e sono diventato abbastanza scemo in quest'area qui adesso vi faccio vedere pure perché la prima volta intendo dire ma diventerò scemo anche qui non vi preoccupate questa me la ricordo era abbastanza semplice arco qui arco qui ed eccoci qui però non serve a una sega ancora ricordavo il sistema il meccanismo ma non mi ricordavo quanto fosse puttanello qui semplicemente ci si muove si evitano i laser nulla di troppo complicato raga easy mi sa che neanche la prima volta sono morto qui ok ma come vedete il numero di nemici cacacazzi cresce in maniera abbastanza esponenziale di zona in zona e anche il move set dei nemici si fa un po più articolato ok bene prima anima trovata è così freddo e se ne va anche qui stessa struttura dell'altra volta ragazzi quattro anime tutte quante da far confluire lì dentro la porta del fatta spruzzo e torniamo nella sala grande all'inizio ok qui la porta è chiusa qui davanti c'è semplicemente la sala con il portone se non ricordo male dalla quale non possiamo muoverci altrove quindi per il momento la lasciamo da parte dirigiamoci in ordine alla prima siamo andati di qua ok adesso direi che in senso orario ce ne andiamo qui abbiamo bisogno di una chiave per aprire quel portone diciamoci un giro qua sopra perché non mi ricordo una sega ragazzi ma nulla 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 proprio niente abbiamo aperto anche quella porta lì porta nella quale mi sa che ci conviene entrare subito senza stare a perdere troppo tempo ok e niente qui opla aspettiamo che si ricostruisca tutto e anche questa è fatta mamma mia che ansia però che viene con sti cosi è un po' pallosetta perché devi aspettare è proprio una prova di pazienza qui un po' più più action ma non chissà quanto ce n'è una dove si deve proprio correre mi ricordo ci sono morto pure un paio di volte perché era proprio un dito in culo veramente oh ed ecco un'altra bella anima orca troia sì non sono nemici così temibili questi qui cazzo è successo a questo oh 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 eh però se mi veni così appena entri ok ok dai mago perfetto sì oh che meraviglia mi stavo cagando sotto perché la mia vita sta finendo ma i piani di questo signore di vivere per sempre non mi sembrano giusti ok di qua non si va da nessuna parte c'è tutta un'altra area da visitare sopra allora qui chi c'è lord Theodore d'or scritto con porta la sua ascesa al potere è stata graduale e il suo regno è ugualitario quindi qui si parla di un buon signore delle porte ok semino qui siamo in una zona in cui abbiamo ben poco da fare ben poco ragazzi purtroppo hop hop e no sono morto come una merda sono morto il cazzo è che adesso devo tornare lì sono morto proprio come una merda allora andiamo a morire fare tutta sta strada qui una rotola di coglioni senza pa... però fermi, fermi, fermi io avevo fatto il passaggio del ciuccio ero andato qui avevo sconfitto tutti questi cattivoni qui ho fatto tutto un lavoro qua sopra e poi tutto un discorso qui poi gli avevo fatto malissimo questi tizi no di qua e una volta che tu hai fatto un'area poi ci metti veramente 40 secondi per tornare lo veri non è assolutamente una cosa impossibile anzi non so come ho fatto a farmi male lo ignoro totalmente allora so che c'è una porta con una chiave da qualche parte ma non riesco a ricordarmi dove cazzo l'ho vista forse l'ho vista di qua era qui si ragazzi a volte stento a credere a quanta memoria ho ma penso di non avere ma quello è il cervello, capito? ha dei dei cluster che non utilizzo io fottetevi ma quanto puoi essere scrofato eh? giusto per sapere no no non mi devi tritare la guallera ma no cioè voi rompete le palle eh cosa? resistono a quattro colpi ok questo è un problema grosso grosso per me ok devo soltanto meno a questo qua malissimo poi li devo fare devo fargli male sul serio ok quando c'hai una tacca sola di vita ti piglia l'ansietta ok ho appreso di un grande patto sui vecchi signori delle porte comunque non me ne frega non me ne frega ancora eeeh nonostante l'importanza del patto comunque non gliene frega un cazzo eeeh allora where where I came from qui direi di sì ok eeeh no mi sa che devo andare di qua qui non ci sono stato qui non ci sono stato ok queste zone all'aperto sono molto simili ma non sono la stessa zona e durante la mia prima run mi hanno mandato parecchio al manicomio e infatti quindi qui ci sono già stato qui ci sono già stato ok e adesso comincia la ricerca spasmodica del terzo cazzo maledetto lì ah qui qua ci siamo andati poi abbiamo fatto tutto questo percorso qui ok semino ed eccoci qui no ce la siamo cavata con pochissimo ragazzi pochissimo veramente siamo stati eh vabbè ci sto capendo un cazzo dai dai maghetti sì sì gli ho rotto lo scudo oh cazzo oh cazzo nooo no 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 quanto rompe i coglioni quell'arciere lì madonna quanto rompe i coglioni è in assoluto il nemico più fastidioso cioè campione assoluto di fastidio cioè campione assoluto di fastidio allora qui qui saliamo no una volta che ti ricordi le strade ti rendi conto che sono veramente due metri per ritentare una cosa ok buono 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 dai dai mago dai sì ok eh io ho menato di cattiveria quello sì ok ti rendi conto oh bene così madonna che combattimento tosto questo me lo ricordavo così di aspro ok ok entombed alongside the old doors sepolto vicino alle vecchie porte qualcuno lo chiamerebbe un onore io lo chiamo una tragedia a meno che entombed non voglia dire altro ma credo che voglia dire questo sepolto ok no mi vengono i dubbi perché l'inglese è pieno di cazzo di parole maledette che suonano come se fossero una cosa ma ne sono un'altra c'è tipo noi per dire in questo momento diciamo attualmente e loro dicono actually ma non è assolutamente attualmente vuol dire davvero oppure definitely che ti dicono definitivamente pensi tu invece il cazzo è alla fine quindi definitely la pronuncia abbastanza puttana e quindi mi vengono sempre i dubbi quando la parola sembra troppo una parola italiana mi pigliano i dubbi ma questo perché raga l'inglese è una lingua cioè te lo dovresti parlare tutti i giorni perché la gente se ne va e se ne va in america se ne va in inghilterra a parlare con con gli autoctoni perché è l'unico modo per fare pratica per davvero cioè te puoi giocare i videogiochi imparare l'inglese dei videogiochi certo puoi andare a scuola impari a scuola certo è importante perché adesso io quando leggo un testo in inglese lo capisco quando mi mandano i contratti leggo i contratti che mi arrivano dalla cina porca troia scritti in inglese scritti anche qualcuno in effetti e ci riesco a capire quindi diciamo funzionalmente parlando i miei problemi con l'inglese li ho risolti perché riesco a servirmene per lavorare per per fare cose però non è un bel inglese il mio capito non è l'inglese che vorrei avere poi la soffro molto questa cosa perché io in italiano faccio un sacco di giochi di parole ci gioco un sacco con la lingua quindi mi sta sul cazzo non poterla fare in inglese ok cioè per carità mi sento meno in pericolo perché so che se vado in una città quando sono stato in Germania ho parlato sempre solo in inglese per farmi capire e per fortuna è andata bene nel senso che lì non è che pretendono un inglese da da stand up comedian basta un inglese sufficiente per capirsi per capire che cazzo vuoi mangiare a cena per capire che vuoi un taxi per capire ste stronzate qua però la lingua vera è un'altra cosa ok questi sono veramente tosti questi pezzi di merda questi smalt dei poveri sono tosti perché sembrano lenti che sono grossi in realtà hanno questa capacità di girarsi di scatto oh e finalmente ci danno l'oggetto definitivo l'oggetto della vita il rampino di Dio che dappertutto si aggreppa e dappertutto ti sulge non su questi cosi ma su questi ok la rimozione della dinastia delle porte ha seriamente impedito la mia investigazione sulla scomparsa dei miei editori nella regione redatta redacted dovrebbe essere redatto l'intero processo di trasferimento a un nuovo sistema è stato un incubo questi stavano digitalizzando gli archivi è tipo quella cosa lì ho trovato prove che diversi lavoratori erano attivi nella regione dove gli ordini sono stati interrotti e ancora più preoccupante è che i mietitori attivi cioè le missioni attive dei mietitori nell'area erano state eliminate dal sistema da qualche parte là fuori c'è un'anima che non è stata mietuta in tempo è una ricetta per il disastro ho parlato come bastiani c'è una ricetta per il disastro questo è sicuro sappiamo tutti cosa succede quando un'anima rimane oltre la data di scadenza mmm ok click sembra che il telefono non sia connesso a nulla ok eccoci rifacciamo tutta la parte iniziale però con la consapevolezza che adesso possiamo fare un po' più cosine se abbiamo letto allora abbiamo altri circa venticinque minuti se consideriamo che noi questo tempo qui ce lo prendiamo per per esplorare un pochino meglio no? l'idea è di fare un po' di backtracking però sfoggiando il nostro nuovo rampino che ci permette di muoverci tra la puttana di sua mamma e la scrova della sorella ok ok ho trovato anche un modellino di una porta ok basta con questo lavoro ho trovato appunti di un investigatore che cercava ehm vabbè che stava studiando gli eventi intorno alla scomparsa dei miei editori e la chiusura di tutte quelle porte attive il signore delle porte non ci ha dato ehm ah doesn't give too shiny significa non gliene frega un centesimo di noi corvi perchè cos'è tutto questo? io e alcuni altri miei editori che ho convinto a unirsi a me siamo diretti nella zona proibita per vedere che cosa riusciamo a trovare speriamo di poter iniziare una nuova vita senza la commissione una nuova sfida ci aspetta ok e ci sono dei corvi che si stanno sganciando dal sistema ok la cosa bella di questo gioco è che tutto somm... mannaggia il papelo la cosa figa di sta storia è che tutto sommato è una vicenda sindacale per tanti versi è una vicenda sindacale quella a cui si assiste qui ok non è qua che dobbiamo andare mi sei in basso? no no non mi ricordo da che parte si accede a questa nuova area misa da qui no da qui c'è questo cazzo in culo qui credo sì torniamo a Castle Rockstone qui c'è da fare eh c'è ancora molto 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 da fare e lo vediamo subito perché se andiamo a ripercorrere le zone che abbiamo già percorso prima ma adesso grazie al rampino si aprono mille opportunità di avanzamento la prima per l'appunto è questa mannaggia il papelo ok ci vuole la freccia esatto e poi col rampino andiamo di là ok qui ci fanno familiarizzare un po' con il nuovo strumento strumento che io so usare perché l'ho già usato nell'altra run ma che comunque all'inizio un po' di problemi me li ha dati anche per via dell'innaturalissimo sistema mira con L2 e spara con la B continuo a dire che è un pelo innaturale come sistema ok qui bisogna riuscire ad accendere questi quattro braceroni vicino a quella porta centrale e qui visitiamo le cripte dei diversi signori delle porte lord open gate il terzo nella dinastia dei lord ok anche lui è un buon re ok ok ha viaggiato nella vastità dello spazio saggissimo e ce ne andiamo a fare in culo qui ci riportano in questo punto qui allora adesso ero stato qua sopra adesso ce ne andiamo di qua vedete là sopra abbiamo mollato proprio una chiave addirittura una chiave che poi non mi ricordo dove cazzo si usa quella chiave mi ricordo che si cioè mi ricordo che qui si si sblocca una marea di roba ma proprio una marea molta molta più di quella che che puoi aspettarti cioè quando capisci che puoi usare il rampino vabbè dici ok adesso uso queste cose le croci fatta spruzzi per andarmene in giro in realtà ogni tanto trovi roba che neanche ci avevi fatto caso che era possibilmente sbloccabile la trovi proprio così a buffo tipo questa questo shortcut qui prima era assolutamente inarrivabile e adesso è diventato normale accessibile a chiunque ok ok perfetto eh la prospettiva è un po' puttanella qui allora devo salire qui così così si che culo non mi ricordo come cazzo ho fatto qui ma devo salire qui devo salire qui ma questo si deve abbassare ok la soluzione è questa qui credo forse devo salire no merda perché è difficile calcolare l'altezza di queste cazzo di cose devo picchiare quello là in alto oh devo picchiare quello là in alto ah sì che cazzo e non posso più ho finito i colpi qui come faccio? aspetta eh ho finito i proiettili io non mi ricordo come cazzo ho fatto l'altra volta qui eh ha ho finito tutto magari non è proprio elegantissimo ma è il modo migliore che ho per fare questa roba qui quindi ok sono arrivato qui e mo che cazzo ci faccio? nulla perché non ci arriva oh l'altra volta non ci ho messo tanto guardiamoci un po' meglio intorno ok ok bene no non è così che devo farla sta parte eh se avessi il cazzo dell'arco mi sa che sta parte qua è infattibile così devo andarmi a riprendere due frecce è l'unica aspettate che dovrebbe esserci del ghiaccio da qualche parte non ci credo non ci credo che quella parte è infattibile perché non ho le frecce dell'arco mi sembra veramente strano non esistono situazioni simili in questo gioco cioè non rimane mai a corto di frecce ti viene sempre fornito il modo di ricaricarle quindi o è un piccolo buco di level design, di game design anzi o sono io che sto sbagliando tutto con tutto intendo dire qualsiasi cosa oooook oooook oook eh no niente è proprio così cioè veramente sì avevo finito le frecce io pensavo che che fosse mio il problema invece avevo proprio finito le frecce è una zona un po' un po' particolare perché non c'erano ehm bersagli con cui ricaricare le munizioni forse una piccola disattenzione degli sviluppatori ok oooook vedete qui che dovevo usare quel robo mi hanno dato un cristallo da rompere per ricaricare le munizioni questo qui cioè nel caso ah questo si occupava dell'equilibrio dell'universo il lord che mi ha creato ok non è stato il fato a legarmi alla porta ma il dovere nessun altro poteva prendersi sto fardello controllare la vita e la morte quindi mi sono caricato io questo peso e l'ho fatto più a lungo che ho potuto anche aumentando la durata della mia vita oltre il naturale quando è arrivato il mio momento il mio successore non ha prestato ascolto ai miei insegnamenti e si è stronzito e e ah non posso tornare indietro macchia la puttana c'era un'altra zona che volevo visitare lì dai qui ci posso andare qui ci posso andare ok 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 un contratto firmato ah questo ve lo faccio vedere questo sembra essere un qualche tipo di contratto risuona con un'energia uncanny ok questo termine lo cerchiamo anche l'altra volta mi aveva incuriosito però facciamo così l'altra volta non l'ho cercato ah misteriosa e vaffanculo ho scritto i misteriosi c'è un testo che non riesco a leggere probabilmente sono caratteri magici di salcazzi e non li riesco a leggere vabbè qui ci siamo semplicemente infilati in un angolo non è la via maestro la via maestro è questa e ci riconduce ovviamente a tutte le porticine di Dio di prima questi due cazzi li abbiamo aperti c'era un'altra strada nella quale dovevo infilarmi e a parte il fatto che c'è pure questa cosa da prendere ok era qui che dovevo andare c'era una strada che dovevo fare però non era questa non era questa oh dove cazzo forse qui sì sì mi sa di sì no questa già l'ho fatta mi sa e non porta da nessuna parte ok mi sto perdendo ragazzi mi sto perdendo alla grande forse devo risalire al piano di sopra nella porta con lo shortcut però mi sto perdendo veramente tanto tanto di meno rispetto alla prima volta quante cazzo di volte ho fatto avanti e indietro nauseante è stato ma ve lo dico senza senza paura proprio eh allora qui ci siamo stati ci siamo stati anche una seconda volta credo fermi fermi forse forse adesso abbiamo la possibilità di salire qua sopra e che mi ricordo ci sono arrivato da quella parte ci sono arrivato cazzo ci sono arrivato giro di pippo e torno qui sono dei maestri a farti girare a vuoto gli sviluppatori di death's door ma sì perché comunque ok allora sì questa è la strada giusta nel senso che io ho fatto così sono venuto di qua ho aperto pure sto portone qui sì sì e poi me ne sono andato di là ma io me ne devo andare adesso di qua ok ok la prima volta ci sono morto due volte qui perché non provavo a fare delle cose strane eccoci qua eccoci qua sapevo di doverci arrivare ed eccoci anche alla terza di queste di queste fiammelle azzurre però qui subentra un problema piuttosto grande che io non so dove si accende la quarta non lo so ahhh guarda cosa è successo alla tua vita at the ends of our chaos che cazzo vuol dire at the ends of our chaos ok non mi sono mai venduto all'idea di preservare il corso della vita e morte ogni lord crea la prossima crea il prossimo dopo la sua morte e gli insegna il cammino dei lord il mio creatore mi ha legato al loro sistema tutto quello che ho potuto fare è stato provare a bilanciare il mondo più giustamente che ho potuto vabbè questo comunque anche questo un lord abbastanza tranquillino di sani principi vorrei andare dall'altro lato in realtà perché da qui si esce e però raga l'ultima l'ultimo bracere non so proprio dove cazzo andarlo a pescare ma sempre da qua esco qualunque cosa faccia l'uscita è qui eeeh niente li ho girati un po' tutti sti sti robi qui ce l'ho tornato e niente siamo ritornati qui 861 potremmo tentare aspetta 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 una cosa la voglio provare a fare perché comunque è uno shortcut anche al contrario cioè da qui posso essere ricondotto a una zona molto molto lontana che ancora non rivi- ah porca di una gran scrofa scusatemi non è vero mai ho sbagliato non dovevo entrarci non dovevo affatto entrarci eh ma ci vogliono 40 anni per tornare lì all'ufficio comunque dai già che ci siamo tornati per sbaglio erroneamente io direi di a sto punto pompiamoci un po' le anime allora destrezza ok ora c'è meno meno cooldown tra una volta e quell'altro siamo un po' più aggressivelli quindi non è questa la zona e non è neanche questa la zona e non è neanche questa la zona e non è neanche questa la zona è questa qui a sinistra eccola qui bene adesso inizia il girare a vuoto come stronzi finché non si trova il passaggio giusto eh allora short cut 1 short cut 2 adesso questa zona è abbastanza fattibile e manca una cosa però manca una cosa dove cazzo la vado a prendere questa cosa che manca qui ci siamo stati magari c'è una diramazione che ci siamo persi qui c'è qualcosa che ci sfugge ah questa porta sembra essere in effetti l'unico cul de sac che abbiamo perché una volta entrati qua dentro si va all'anima e non ci sono altri sbocchi quindi non è chissà quanto ramificato il percorso qui potremmo andare di qua oh ho trovato era stronzissimo e l'abbiamo trovato era proprio facile però non lo noti quel cazzo di eh come fai come fai ok abbiamo pochissimo tempo questo è un altro lord morto lord loxton ok lui è il filosofo mi piace come questi lord che alla fine non sono personaggi importanti perché sono pure morti siano dotati alla fine di una di una personalità ognuno a ognuno hanno scritto una personalità in qualche modo io non so come aprirla questa porta come si apre questa porta non so come fare non ha neanche il simboletto della chiave sai che usi la chiave apre no c'è niente non ho nessuna speranza di aprirla vabbè infiliamoci in questa gabbia abbiamo dieci minuti se siamo bravi possiamo accoppare il boss in dieci minuti se siamo bravi però questo è tosto me lo ricordo come un boss abbastanza coriaceo noi incontriamo il bardo se non ricordo male il gatto bardo oh madonna oh madonna un po' me la ricordo sta parte ci ho perso un sacco di tempo no 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 non ce la faremo a fare il boss perché qui c'è c'è da combattere quattro colpi puttana eva no no scusatemi ragazzi ho sottovalutato la situazione non si può andare al boss si può giusto combattere con questi stronzi sperando di non rimetterci le penne eh questi ci vogliono quattro colpi per secarli eh mica bruscole quattro colpi raga non se ne vanno non se ne vogliono andare ok ok abbiamo otto minuti e li sto facendo quasi tutti lunghi un'ora proprio questi gameplay eh abbiamo otto minuti e in otto minuti vorrei riuscire a concludere qualcosa ok corvi muniti di un gran cervello li vedete no? e salviamo e qui abbiamo una porta che non possiamo ancora aprire vabbè troveremo una chiave eeeh di qua mi ricordavo che c'era una roba allora questi sono i corvi liberi un gruppo di di pensatori liberi che rifiutano l'idea del signore delle porte non vogliamo immortalità innaturale se deve arrivare al costo delle nostre vite il punto cioè qual è il senso di vivere per sempre se devi essere uno schiavo no noi scegliamo la vita la libertà insomma ci siamo capiti questa è la loro posizione in merito quindi quindi bisogna parlare per forza con i corvi liberi se si vuole andare avanti questo è un po' il senso di tutta questa parte anime eh le anime bisogna prenderle sempre raga perché mo per esempio avere un po' di attacco in più mi farebbe comodo il problema è che questi sono sono upgrade costosi capito 1200 mi pare che devo pagare per ok allora questa parte non l'ho fatta mannaggia il papelo ricarichiamoci sti cazzi in culo ok ok mmm 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 mannaggia la putt mmm 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 no Che casino questa parte Ok, ah perché Ah, ok, ok È una cazzata Sono io che mi sto facendo mille problemi È una cazzata in realtà quella parte È una cazzata Però mi sto facendo troppi problemi io Ok Allora, ora mi devo ricordare qual era All right E vabbè, fin qua Ce l'ho fatta Incredibilmente ce l'ho fatta Bravo, così No, di nuovo Madonna quanto è punitiva sta parte Punitivissima Allora, il segreto è Colpisci, rolla Colpisci, rolla E rolla Allora, questo cosa fa? Abbassa il primo Ok Eh no, perché? Puttana Puttana Dovevo passare sull'altro E lo sapevo che non funzionava Perché ho sbagliato Non sono stato pulito Nell'esecuzione Madonna Madonna Allora, aspetta Dobbiamo studiarci tutto Il cazzabino Ok No Madonna Che stupido Sono stato Coglionissimo Ok, ok Sì Pray at the shrine Preghiamo al santuario Che dovrebbe estenderci Credo la vita Ce ne vogliono altre due Figuratevi Quanto sono lontano Vabbè Ci vediamo alla prossima